I 5 Stelle chiedono misure più severe e propongono che la gestione dell'emergenza venga affidata dopo il voto alla regione Sicilia. Si chiudano i porti italiani a tutte le navi che non accettano polizia giudiziaria italiana a bordo e se dovessimo vincere noi in Sicilia chiederemo subito che il commissario dell'emergenza e immigrazione sia il presidente della Sicilia.